Dopo che è stato ampiamente illustrato da chi mi ha preceduto, io mi limito a fare alcune considerazioni e a riportare alcuni episodi che si sono verificati nel corso dell'eccipio di Scurcola-Vanzita. Intanto ringrazio prima il Presidente, il priore della confraternita, che ci ospite, che mi aveva invitato. Ringrazio il Sindaco di Scurcola che mi dà l'opportunità di parlare di questo evento. Un evento che molti ignorano nello stesso Paese di Scurcola, tanto che poi quando lo riportano, lo riportano anche in maniera poco corretta. Le citture di Scurcola, meno famoso, lo diceva prima chi mi ha proceduto, sia di quello di Ponte Laddolfo che di Salduni. È un evento che è stato poco, diciamo, fra virgolette, reclamizzato. Nel 2011, mi lo dicevano poco fa, io sono stato il coordinatore di un convegno che l'allora amministrazione comunale e l'associazione culturale di Alvitero di Tesca hanno tenuto qui a Scurcola. Io ho coordinato sia la mostra fotografica e sia il tavolo tecnico con il redatore. Vi voglio dare però alcune indicazioni geografiche di dove si è svolto questo evento. Qui, nella chiesa delle Anive Sante, era la chiesa del Cimidero, lungo la Via Romana. Questa chiesa appare la prima volta in una forma scritta del 1800, quando all'allora Vescovo dei Marzi, Monsignor Bolognese, fece una visita pastorale e di conseguenza scrissi di questa chiesa. Qui c'era in precedenza la chiesa di Sant'Antonio Abbate e una verdamena che io conosco e che in copia le ho possesso, nel 1539, era una chiesa con annesso l'ospedale, non come è inteso nel senso attuale, l'ospedale, ma come teosio per i viandanti. Infatti siamo lungo la Via Romana, siamo fuori dall'Ambicato di Scurcola perché l'Ambicato di Scurcola finiva alla porta di Sant'Antonio, più o meno dove inizia adesso il corso Vittorio Emanuele. La giochieria ottica per capirci, per chi è di Scurcola. Questa chiesa di Sant'Antonio Abbate è stata gestita dalla confraternita della Santissima Attività, che era sorta nel 1608, fondata da Marcello Pondempi e aggregata con l'Archiconfraternita dei Pellegrini e Comparescenti di Roma. Ecco il messo. Inoltre questa chiesa, famosa per l'Eccidio, era famosa anche perché c'era la ruota, la ruota per chi non lo sa, era quel posto in cui venivano lasciati i proietti e i proietti venivano lasciati, il più era suonato, c'era tutto un marchigennio per portare questi bambini all'interno. tanto che l'intendente, l'attuale perfetto in pratica della provincia aquilana, aveva istituito anche un servizio, un delegato del Consiglio Comunale addetto proprio a questo servizio. Andiamo adesso più nello specifico di questa situazione. Io non sono qui per ricordare la parte della guerra, come si è svolta, perché si è svolta. Si è svolta, lo sapete, la rappresagna contro i Borboni da parte dei piemontesi. Ma perché a Scorcola? Perché Scorcola è un punto strategico, un punto a metà strada fra Avezzano e Tagliacozzo, un punto è distante fra il Cicolano verso Rieti e il passo della Cipidella verso Cavistrelli, di conseguenza la terra dell'Europa, dove eravamo per destinazione nel regno di Napoli. Quello che poi è passato come il regno delle due Sicipi dopo la restaurazione delle monarchie, nei primi anni, vendendo dell'Ottocento. Si è svolta Scorcola, ma di Scorcola non è morto nessuno, se non qualche cosa che poi viderò successivamente. Non ci sono, come qualcuno pensa, vittime di Scorcola in questo eccilio. Si sono scontrati nel nostro territorio i briganti, quelli fra virgolette passati sotto il titolo di briganti, furono accettiati nel gromerato di Scorcola, vi ho detto che qui Scorcola finiva, davanti alla nostra sinistra non c'era niente, e di conseguenza furono accettiati e appena il bando che diceva prima chi li ha preceduto, i cittadini di Scorcola non furono costretti a uscire dal proprio seno, dalle proprie case, dalle proprie tane, i briganti. Testimonio di questo auto era il vecchio portone del palazzo Bonino, prima della distruzione. Se vi ricordate il portone, perché di Scorcola c'erano delle accettate, quelle erano per stanare i briganti, perché se vi ricordate, a seguito della unificazione del regno, Scorcola politicamente viveva una certa realtà. Il sindaco protempore era un filo piemontese, rieletto successivamente con i primi consigli comunali. La base di Scorcola, a differenza del clero, che era dalla parte dei Borboni, era un filo piemontese, perché era fratello dell'avvocato Gaetano De Giorgio, che era il sindaco di Scorcola, fratello di quel Serafino De Giorgio, adesso facciamo un po' di storia più scurcolare, di quel Serafino De Giorgio, famoso perché era filo piemontese e autore di molte scorrivate. Che cosa è successo? Che di questo eccidio non se ne parla, perché non ci sono documenti, non ci sono atti, caro professore, che ne parlano. Al termine di questa rappresaglia, furono rinchiusi in questa chiesetta, il numero pure qui, chi ne parla, 277, 300, 400. Secondo me il più preciso di questi che raccontano la storia di questo eccidio è Angelo Ceri, che nella sua reazione al brigandaggio del Mezzogiorno pubblicata però nel 1893, lui era un coetaneo perché aveva combattuto qui a Scorcola quando era il nuovo allenente dei piemontesi. Era di Avezzano, pertanto conosceva molto bene il territorio e inoltre era fratello dell'avvocato Francesco Ciccio Cerri che aveva sposato Capitava Scorcola per 40 anni assessore comunale, più volte priori della comprateria del suffragio e aveva sposato in seconde nozze donna annunziata che era la moglie di Filippo d'Amore Pompei, sindaco per un vendegno nei primi anni dell'Ottocento. E furono rinchiusi in questa chiesa, furono passati alle armi quando più o meno verso mezzogiorno venne l'ordine di Avezzano di sospendere. Io mi sono messo qualche appunto perché per non sbagliarmi furono passate alle armi. Arrivò l'ordine da Avezzano e di conseguenza furono sospesi l'esecuzione. I restanti prigionieri furono portati ad Avezzano dove poi furono ammoniti dalla sottoprefettura di allora e dove furono seppelliti. La relazione Cerri, che io la riporto nella vostra se avete l'opportunità poi di seguirla passo per passo secondo la dinamica della descrizione di luoghi dove è venuto leggendo. Che è successo? La chiusa era alla nostra destra. Era appena questo completo. L'acqua scorgeva da tutte le parti. La stessa chiesetta ha avuto sempre problemi. La stessa compraternita nel Settecento, nell'Ottocento ha sempre dovuto fare lavori per poter bonificare questa zona. Ricordate che qui non era niente costruito tutte le precipitazioni della parte di Spurca dalla parte est ma anche dalla parte ovest venivano a confluire in questa zona. Si sono accorti che non potevano seppellir hanno pensato di bruciarli e hanno pensato di bruciarli però il fedore fu talmente forte che non si riuscì a respirare. Che cosa è successo intanto che di questo fatto di scurcola gli archivi non ne parlano. Non abbiamo una documentazione perché non sappiamo né quando sono i morti né che sono i morti se non sporadicamente. Lo stesso ufficio dell'archivio dell'esercito di Roma che io ho visitato non parla non c'è nessuna relazione sull'eggibile di scurcola. Qualche cosa appunto è la relazione Sherry ma anche altri hanno scritto comunque 30-40 anni dopo l'eccidio. La memoria di scurcola è una memoria che non ricorda bene tutti questi episodi è stato forse un talmente forte talmente importante questo questo eccidio che hanno questa mattanza perché di mattanza in pratica si è si è si è parlato che non sono riusciti a fare vi avevo detto prima scurcola era filobolponica morì però in questa regressione uno scurcolano un certo Costantino Olli un nome che non vi dice niente Costantino Olli lui era abitante nel via Clemente 4 la scurcola la ex casa di io ministro perché era della scurcola lui uscì forse era un po' una testa calda perché era figlio di Domenico Olli e Domenico Olli era stato arrestato perché era guardia nazionale che cosa è successo lui è uscito fu ammazzato però sentite il parroco di allora filo piemontese annota nel registro dei morti che è morto a causa del passaggio della banda Giorgi l'ufficiale dello stato civile del comune sindaco di Scurcola dichiara che è morto nella propria abitazione altri morti nella zona non ci sono sani l'ufficio parrocchiale di Cappelle non serve i registri pertanto non si è visto niente l'ufficio di Villa San Sebastiano uguale il comune di Tagliacozzo non registra morti in quel periodo pertanto non si sa quali sono stati i morti io a questo punto vi leggo io ho scritto un libro sull'Ecidio di Scurcola proprio nel 2011 in occasione del 150esimo anniversario vorrei reggervi e prima di avviare la conclusione in quanto una domanda che mi sono posta per la verità poche sono le testimonianze orali tramandate dai nostri antenati evidentemente lo spavento subito per l'estrema atrocità con la quale i piemontesi si sono comportati hanno cancellato dalla memoria un efferrato fatto di sangue eppure sono trascorsi soltanto 150 anni dall'Ecidio l'episodio è vero avvenne per casa a Scurcole non vide coinvolte genti locali fatta eccezione appunto per percorso Santino però la feroce esercitata fu altrettanto forte e che è possibile che i nonni i nostri nonni non abbiano mai raccontato di questo fatto ad armi in una società in cui si viveva di racconti orali attorno al cammino delle unche serate invernali quei nonni erano i nostri bisnonni possibile è stata talmente atroce che probabilmente nessuno voleva ricordare tanto che a Scurcola gli anziani quando volevano amostrofare una persona che aveva fatto un malefatto un bambino lo chiamavano Brigando perché Brigando per loro era sintomo di essere cattivi e per concludere un episodio orale che a Scurcola me lo hanno raccontato con delle lunghe serate invernali me lo raccontava Corradino Frezzini il Papa di Ambaro per chi lo conosce che cosa mi ha raccontato due risorse uno che un certo Pasquale Fofone il nonno di Aristide Nuccedelli di Carmelo in pratica proprio quando cruciavano i cadaveri forse stavano i baraggi lui e altre persone furono prese furono prese delle patate le patate furono insuppate e cotte nel grasso delle persone e furono date in pasto a loro pensate che atrocità un'altra cosa però mi raccontava pure che il suo nonno paterno un certo Isidoro Ansini e qui è un fatto sicuramente importante perché la solidarietà è sempre esistita a contribuire a liberare uno di questi briganti mettendolo nel cestone con l'asina quando si portava con ricoperta di stampi e di ledame quando si portavano per i campi ecco questi sono gli unici due episodi che sono rimasti orali a scuola o per lo meno che io conosco io vi ringrazio ringrazio se mi avete ascoltato se mi avete sopportato grazie sicuramente per l'invito grazie per l'opportunità che mi avete data di parlare di scuola grazie